Salve a tutti amici colezionisti e bentornati su Fredo TortinStore e benvenuti ai nuovi iscritti io sono Davide con me il mio piccolo assistente e oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista King Kong con questa action figure targata neca direttamente dal film del 33 allora abbiamo questa scatola enorme versione ultimate ovviamente più grande del solito non solo perché King Kong è grande ma anche per gli accessori che ha che poi andiamo a vedere qui abbiamo comunque un'immagine dei vari accessori che abbiamo all'interno la scatola si apre ovviamente a finestra e qui abbiamo il nostro King Kong bene direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione prima di cominciare però come sempre vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano grazie mille a tutti ricordati che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto abbonati qui sotto oppure potete usare il super chat mettendo così in evidenza anche il vostro commento ok ecco la nostra action figure fuori dalla scatola diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 21 cm allora partiamo subito con il volto lo trovo davvero fantastico guardate anche i graffi che abbiamo qui in testa sul sopracciglio sulla guancia guardate gli occhi fatti benissimo anche i denti molto bene la bocca può essere anche aperta molto bella la testa può ruotare ovviamente su e giù molto limitato così e così abbiamo apertura delle braccia in questo modo possiamo ruotare ovviamente la spalla ruotare il bicipite abbiamo il doppio snodo qui sul gomito molto bello perché una volta piegato è nascosto nella parte esterna mentre invece quando è aperto vediamo lo snodo qui magari potevano colorarlo come il pelo però vabbè sul petto abbiamo alti gaffi lo snodo qui che ci permette di andare indietro e in avanti lo trovo molto buono possiamo anche ruotare destra e sinistra è l'unico snodo che abbiamo sul petto però perché qui non ce l'abbiamo poi apertura delle gambe davvero spettacolare guardate sembra anche bella massiccia possiamo alzare anche la gamba in questo modo doppio snodo anche sul ginocchio stessa cosa del gomito possiamo ruotare appena appena la coscia abbiamo poi il piede possiamo andare su e giù con lo snodo poi abbiamo i piedi sono praticamente delle mani e lo snodo sul piede molto limitato possiamo fare appena appena su e giù non abbiamo nessuna rotazione sul retro nulla da segnalare abbiamo un po di gomma qui sotto ci permette di andare un po indietro con le gambe e questo è il nostro king kong allora cominciamo con la seconda testa che la trovo davvero fantastica guardate come arrabbiato abbiamo anche gli stessi segni che avevamo sull'altra l'unica differenza è che la testa non può aprire la bocca quindi questa è fissa quindi una volta messo questa testa lo abbiamo arrabbiato mentre invece quella lì possiamo aprire chiudere la bocca e poi abbiamo un po di sangue qui sulla sinistra che nell'altra non c'è stessa cosa anche qui a destra poi abbiamo due mani per impugnare e due mani aperte poi abbiamo due manette due catene spezzate quindi vanno messe ai polsi togliendo le mani ovviamente perché non si possono aprire e infine quello che differenzia questo set questo king kong dagli altri sempre negra che ne ha fatti tre principalmente nell'ultima wave è questo accessorio ovvero questo king kong ha come accessorio questo aereo quindi abbiamo le pale che stanno andando eliche quindi è in movimento qui abbiamo i due soldati uno dietro che spara e l'altro che sta guidando le ruote sono fisse non possono ruotare mentre invece l'altro king kong che ha fatto la neka ha degli animali come accessori e poi c'è quello classico senza accessori quindi solo king kong paragoniamola michael myers direttamente da halloween hands sempre targato neka in caso vi foste persi la recensione ve la lasciamo in fondo a questo video ok eccoci con le nostre valutazioni finali allora l'action figure a mio avviso bellissima per tutti i fan di king kong questa non può mancare poi parliamo delle ultime cartucce sparate da neka penso che non vedremo più mostri da parte sua quindi direi di approfittarne e scegliere la versione che più ci piace come ho già detto prima abbiamo la versione normale quella con l'aereo che è quella che stiamo recensendo e poi ci sarà quella con gli animali magari se vi va fatelo sapere nei commenti e recenseremo anche quelle quindi a mio avviso l'acquisto è super consigliato jason che ne pensi allora molto bello non mi piace tanto l'altro testo quella con la bocca che si apre beh la top è questa qua che è arrabbiata sta molto bene l'altra vabbè con la bocca che si apre ci sta eh che l'abbiano fatta così almeno abbiamo la bocca che possiamo aprire e chiudere però quella arrabbiata è la migliore bene detto questo noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito ringraziamo paolo per l'acquisto per averci permesso la recensione come al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social noi vediamo l'appuntamento come sempre al prossimo video sempre qui sempre con me e sempre con Jason grazie mille e ciao a tutti ciao